Si è svolta sabato 19 febbraio presso la Sala Consiliare del Comune di Fucecchio, in provincia di Firenze, la cerimonia di premiazione del 29esimo concorso letterario internazionale dedicato all'amore, organizzato dal Club Laps Poeti e Scrittori di Fucecchio. Ripartiamo dall'amore in tutte le sue sfaccettature. È il titolo del concorso al quale hanno preso parte poeti provenienti da tutta Italia, tra cui la nostra concittadina, la scrittrice Daniela Fava, che ha vinto il secondo premio. Il nostro direttore Piero Giunta ha incontrato e intervistato Daniela Fava. Ascoltiamo. Allora Daniela, intanto complimenti. Ripartiamo dall'amore in tutte le sue sfaccettature. Secondo posto al 29esimo concorso letterario internazionale dedicato all'amore. Daniela, parlaci di questo premio. Sì, sabato scorso presso la Sala Consiliare del Comune di Fucecchio, Fucecchio è un paesino in provincia di Firenze. Si è tenuta la cerimonia di premiazione del 29esimo concorso letterario internazionale dedicato all'amore. È un concorso che è stato organizzato dall'Associazione Poeti e Scrittori di Fucecchio. Hanno preso parte diversi poeti, scrittori provenienti da tutta Italia. Io ho partecipato con il mio ultimo romanzo dal titolo L'Ingannatore, un romanzo pubblicato a dicembre del 2021 dalla casa editrice Giambra Editori e mi sono classificata al secondo posto. Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, anche l'assessore alla cultura e la consigliera comunale in materia di gemellaggi e ovviamente i responsabili dell'associazione, l'associazione che ha organizzato il concorso e poi c'erano tutti i componenti che hanno formato la giuria. Del romanzo L'Ingannatore ne ho già ampiamente parlato a questi microfoni qualche tempo fa. In breve posso dire che è un romanzo di forte denuncia sociale. Il romanzo infatti vuole spalancare una finestra sul mondo della magia, un mondo dell'occulto in generale, mettendone proprio in risalto gli effetti su coloro che ne diventano vittime. Infatti questo romanzo è rivolto per lo più ai giovani, a persone fragili, indifese, cadute nelle trappole dell'ignoto e questo romanzo guarda loro con particolare attenzione. Durante la permanenza a Fucecchio so che hai incontrato e parlato con una persona di tua conoscenza nel mondo della cultura. Damiela, cosa vi siete detti? Sabato scorso, grazie a questa iniziativa, ho avuto anche il piacere di rivedere la mia carissima amica scrittrice Ornella Fiorentini di Ravenna. Lei invece è stata premiata per un racconto dal titolo Il Dottor Gabriel. La nostra città ha avuto già l'onore di conoscere in passato questa scrittrice di Ravenna in occasione della sua presentazione di un libro e anche per la messa in scena di un suo monologo da parte della mia compagnia teatrale, Nuovo Teatro Popolare di Ispica. E quindi le cerimonie di premiazione non sono soltanto momenti in cui si va a ritirare un premio, ma sono anche occasioni di incontro, di scambi culturali, di idee. E in questo caso è nato un progetto con Ornella, un progetto che vedrà la messa in scena del suo testo premiato a Fucecchio e sarà messo in scena dalla mia compagnia teatrale, spero quanto prima. Si tratta di un monologo che mette in luce il mondo ancora poco conosciuto del popolo rom e sinti di nazionalità italiana. Qui Ornella descrive la voglia di riscatto di questo giovane rom abruzzese che è un suonatore di strada di fisarmonica. E io dunque interpreterò un ruolo maschile, spero di riuscirci, come un po' avveniva nel teatro elisabettiano quando alle donne era proibito di calcare il palcoscenico. Invece in questo caso mi calerò in un personaggio maschile, il dottor Gabriel, e spero che questo progetto si possa realizzare quanto prima. E tornando alla cerimonia di premiazione, molto bella, ben organizzata, fatta veramente molto bene, in questi giorni ho avuto modo di riflettere e di ripensare più che altro al titolo di questo concorso a cui ho partecipato. Il titolo del concorso era Ripartiamo dall'amore in tutte le sue sfaccettature. Io sottolineo l'amore in tutte le sue sfaccettature, quindi non soltanto l'amore romantico, ed è un titolo che fa riflettere proprio in questo particolare e delicato momento storico. Dovremmo pensare al sentimento amoroso come uno strumento rivoluzionario. Io penso che l'amore possa essere veramente un atto coraggioso, l'atto più coraggioso e più rivoluzionario per cambiare la società in cui viviamo e per costruire ponti di dialogo e di pace. E mi auguro dunque che nel mondo ci sia più amore, perché come scrisse il sommo poeta Dante, è l'amor che muove il sole e le altre stelle. Ringrazio Daniela Fava, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.